Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Firenze Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Traffico che per il momento scorre in maniera regolare su tutta la rete stradale e autostradale della regione. Sulla 1 panoramica si ricorda inoltre che fino al 28 febbraio rimarrà chiuso per lavori il tratto tra Aglio e Roncobilaccio in direzione Bologna. Sul raccordo Siena-Firenze è sempre a causa di lavori restringimenti di carreggiata tra San Cascian e l'allacciamento con la 1 Firenze in pruneta in entrambe le direzioni. Cantieri di Firenze causa trasloco domani 15 gennaio in orario 6.16 via dei Pepi rimarrà chiusa da via di mezzo a via Pietrapiana con senso unico in via Pietrapiana verso via dei Pepi e in piazza dei Cionpi verso via Martiri del Popolo. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie!